A nome mio, a nome del centro culturale, vi ringrazio della partecipazione, vi ricordo che c'è un rinfresco e naturalmente c'è la possibilità di acquistare il libro. Un grazie doveroso anche a Elisa che per la seconda volta ci supporta, ecco questa è una cosa importante per noi e grazie, grazie di essere venuti.